Ebrevno Europe è un progetto giornalistico di Slow News con altri partner, nella seconda edizione abbiamo come partner internazionale, che è una rivista settimanale che porta in Italia il meglio della stampa internazionale, poi abbiamo la Revue des Sinè che è un progetto giornalistico veramente interessante, un trimestrale di carta di giornalismo a fumetti, quindi una roba completamente matta e molto coraggiosa, veramente bello, e un giornale che esce come free press per il pubblico più giovane che si chiama Zai.net, è stato fondato nel 1996 ed è stato il primo giornale in cui ho lavorato veramente, pagato, ed esiste ancora oggi e ci interessa perché ci permette di raggiungere un target molto giovane. E poi abbiamo come partner percorsi di Secondo Welfare che agisce, diciamo, come una sorta di comitato tecnico scientifico per il progetto, cioè mette a disposizione delle conoscenze dei ricercatori ai giornalisti che quindi possono attingere alle loro competenze. In tutto questo il progetto racconta, diciamo, luci e ombre della politica di coesione europea, come funzionano i finanziamenti, come funzionano i fondi, progetti che hanno avuto successo, progetti che hanno avuto meno successo, per farlo ovviamente ci basiamo anche sui dati di Open Coesione. Che approccio abbiamo avuto a questa banca dati e a tutto il progetto? Abbiamo intanto raccontato ai giornalisti che lavorano con noi che esiste la banca dati di Open Coesione, abbiamo cercato di dare loro un minimo di, anche formazione, quando questa mancava, dicendo, spiegando loro come usarle, come andare a cercarsi i progetti, poi abbiamo usato esattamente l'approccio che cerchiamo di proporre al mondo del data journalist, cioè usiamo la banca dati per andare a cercare non soltanto il dato generale, che ci serve sempre per dare contesto, ma usiamolo anche per andare a trovare la singola storia. E in questo avere una banca dati che ti mette a disposizione la divisione, per esempio, dei finanziamenti sul territorio per andare a vedere i singoli progetti è stato sicuramente preziosissimo. In questo poi il giornalista ha assoluta libertà editoriale, nel senso che non è che perché abbiamo un progetto che si chiama Brave New Europe, che racconta la politica di coesione europea e che ha anche vinto un bando della Commissione europea, allora bisogna parlare per forza bene di quello che viene fatto. Se il giornalista trova delle criticità ha il dovere di rilevarle, di proporle alla cittadinanza, ma noi crediamo fortemente che questi dati e queste banche dati debbano essere utilizzate anche per far vedere le cose che funzionano. Non come pensa qualcuno per fare la marchetta, attenzione, ma perché far vedere alle persone che ci sono anche cose che funzionano, è un po' meno scoraggiante rispetto a come interpretiamo il mondo là fuori. Quando ero giovine nelle scuole di giornalismo si diceva questa battuta, la notizia non è il cane che morde l'uomo, ma è l'uomo che morde il cane, perché devi sempre andare alla ricerca dell'eccezionalità. Il problema qual è? che se tu cerchi sempre l'eccezionalità, l'eccezionalità è una piccola percentuale della realtà e vuol dire che tu sottorappresenti sempre tutto il resto. Allora è vero che il giornalismo ci ha abituati a essere un racconto continuo di frodi, truffe, inganni, ruberie, violenze, eccetera, ma fortunatamente a fronte di tutto questo che esiste, va sempre raccontato e denunciato, c'è anche un mondo che funziona. E quindi usare una banca dati come quella di Open Coesione sia per trovare eventualmente le magagne, sia per raccontare il mondo che funziona, credo sia un buon approccio per non scoraggiare sempre lettrici e lettori che alla fine, insomma, se fossero, se avessero accesso solamente alle prime pagine dei giornali tradizionali e ai sommari dei telegiornali, probabilmente si barriccherebbero in casa e non uscirebbero più per mancanza di fiducia nel mondo che li circonda. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!